Ciao a tutti ragazzi, noi siamo in Cosing Games, qui chi cacchecco, ed oggi siamo in compagnia di due deficienti, ovvero Jerry Mine, GoldenG99, e Daryal Luca. Bello, che non si sente, allora aspetta un attimo, oh al mio 3, 3, 2, 1, via, 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 ho detto vai, no no, era solo quel pezzo, comunque qui abbiamo, vabbè bu, Luca dove stai? Ok, la spada, non la prendo, no, non la prendo, ok, oh fai dio, è pizzo, eh si, che detto? Aspetta ora butto un, non si butta, stavo per buttare uno ma s'è buttato da solo, quindi butto bene. non è andata bene, ah infatti sony gx perchè mi sta nella pesca oh fiamma in alto, in alto, in alto, in alto, in alto, in alto, clicco tu mi vedrai mentre sto facendo un super pisellone stai laggando tantissimo su skype stai laggando un milion non avevo riconosciuti pensavo vuoi vedere, vuoi vedere com'è vuoi vedere com'è, vuoi vedere com'è, cazzo no, mi scappa, mi fa un c**o senti in giro che sto volendo christian 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 no chiacchia da sorte questo modo di scuola cosa state dicendo essere umani luogo ma che sta giocando, che cosa che è, facciamo una partita a testa ingegnosi giusto perché non hai pochia potia potia perché non hai po' che cospa in diamante ho visto eh certo brava eh certo sciccio perché le cose o le faccio bene o non le faccio proprio sembrava tipo un'anatra io so tipo tutto in diamante mi stava sparando uno bravo bravo cioè noi siamo in diamante quindi è bravo cioè noi abbiamo tutto in diamante il posto quelli fanno team no 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 la sciattata è quello ma pure luca sta ma hai ucciso dai che ti sciotto no tu l'acqua eh sei morto addio a questo modo parallelo non tu 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 sei morto siamo arrivati terzi eh oh no ci c'è un'altra partita lo cambiamo oltre a farlo come l'ho affrontato eh vabbè sono cose che capitano dai non è che tutti possono straccontentati che cazzo sto dicendo? al verde tutti al verde eh io sto al blu mi dispiace si lo solo ho visto oh c'è quello che ci ammazza l'altro giorno qua vede 3 oh venite al verde al verde? si si grazie che io non devo mai trovare oh la spada con l'affilatezza di oro quindi dura due minuti ma tutte le spade sono affilate no no e allora e allora ciccio e allora ciccio oh ma non lo danno mai un piccone con fortuna fottuta sto giocando ora che è successo ha perso ha perso ha perso ha perso ha perso jeremy ha perso ha perso ma in mille minuto si dislessa vedi che sanno le altre cose giù lo so che è stato avete visto uno che si è già scritto si vabbè andiamo ha perso scusa scusa facciamo cacchette oggi ci diamo no no è brutto dai no non ci fa la vala oh ma noi c'è un'isola di merda non te ne ha no non ti sa che io vedi se c'è qualcuno impossibile che hanno messo solo una cesta no vedi vedi meglio guarda dove ce l'hanno le ceste guarda molto faccio vedere no ma vedi dove sono le ceste aspetta non ti rubo il gioco si dico vedi qua ah c'è la scala ma scende hai visto scendo ma va no ma che cazzo siete morti ah la posso rifare che cazzo c'era a fare la scala per andare nel buco no scuola ho detto stava una scala che portava non te la c stava qua al bordo che si stava no ma è il bello che gli ho detto vedi c'è una scala che ti porta una cesta lui che fa fa un volo nel buco e la scala che servite a niente ma chi è il creatore di glazescraft enrique glazes ma sta registrando se lo voglio mina blu e noi non facciamo tagli non lo taglio ah quindi non lo tagli no no ma che pò no e attenzione ancora muri su mamma c'è una scala c'è una scala booo quella è una cosa che forcerà la storia se ci facciamo momenti belli con chi perché è che lo metto qua eh perché è con quello a Gerardo che li ho lanciato un uomo addosso che è che ha scritto quello time despondal 75 oh sta luca che sta parlando si ma tu ti crashi troppo al mondo spade in diamante ma ci sta a dire so giù si vedi la registrazione ti giuro che c'è una spade in diamante zico vieni qua che dobbiamo uccidrà siamo in quattro ma oh eccolo con la spada d'oro ma ci no chi big tiger dove sta sta qua mi sto facendo il ponte verso di lui la dobbiamo killare insieme ragazzi ma dove sta lui ah ti hai fatto un pino oh sto qua si ti ho visto aspetta veniamo con te oh che ora viene chi te viva oh mangi una mela adoro chi te viva veloce veloce corriamo corriamo corri 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 pari in diamante in diamante nooo ti ha ucciso si valla ti ucciso veloce 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 c'è il contraccolpo su busto hai visto siamo arrivati secondi facciamo un'altra partita eh si la facciamo un'altra partita voglio stare io prima che me ne vado al giallo eh ah no ah no che stupor che lec di bar ok ecco parte scusa vediamo cosa c'è qui perchè sposti il tappotino che è interessante non ho capi lui che è crashato sta facendo la sociale secondo me è tutte e due le cose oh madonna che culo una miniera rompi solo la sporo io c'ho cioè ma non me li sono messi ti ha chiuso giù cacco così rimani al sicuro che pa... no aprimi non abbiamo il piccone oh cazzo dove sta il piccone? sto morendo affogato dai soffro di caustrofobie caustrofobie che ti castra castrofobie grazie ah rompi pure qua cosi salo salo cosi salo ma perchè lasciate la ciotola? rompi qua dove ti sto facendo io? vai ho lasciato il piccone veloce però castrofobie ok con il piccone in legno che bello no che è che meno male che non mi ha colpito sono male che non devi prendere un shift infatti non ce l'avevo più un shift oh come una canna da pesca molto bella lo sai e se no mi non prende non ci spi... no stiamo sulla cosa di cacao oh andiamo da felipe jr ciao eh ah ok a quello là felipe e giro eh però fai tu il po attenzione attenzione se deve scappare prima il morto eh ah è perchè ti ritieni già morto c'è uno di autorità mi sa ho visto come è caduto quello là quello volava è diverso no è caduto una volta che ci butta le palle le consuma solo no è diventa monopalle è diverso perchè le butti è caduto è caduto no vabbè ora dobbiamo andare a prendere quello con l'acqua e tutti l'acqua tengo e si fai il ponte e si ovviamente mi sono baggato beh ragazzi quindi se il video vi è piaciuto come al solito potete lasciare un commento mi piace per tutti gli epic fail quindi ma da fa casa a tutti aspetta quindi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace vedete sta rompendo i pistoni iscrivetevi al canale iscrivetevi anche al canale di questo celebrato mentale e noi ci vediamo al prossimo video al prossimo video ciao 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 ciao